Benvenuti a Paternogiano, sono Luca Ottolante Danave, titolare del gruppo TecnoCars Paternogiano dal 1985. Questa è l'agenzia di Via Rotondi, è la prima sede che abbiamo aperto nel 1986 e si trova proprio nel centro di Paternogiano e si occupa, in modo particolare, del mondo residenziale. Questa che vedete è l'agenzia di Palazzolo, aperta nel 1990. L'agenzia di Palazzolo è qui vicino alla stazione, quindi raggiungibile assolutamente anche da Milano con i nostri servizi di ferrovia e le due agenzie, quelle che io chiamo le gemelle del gol, si occupano da sempre del mondo residenziale, nelle compravendite, dando assistenza agli acquirenti grazie anche alla società Kiron che offre i servizi per mutui e assistenza finanziaria e nei nostri archivi da questi anni abbiamo sempre registrato e archiviato tutti i valori immobiliari e di non immobile dei 6.000 edifici abbiamo avuto esperienze di gestione. Nella nostra storia l'archivio dei valori immobiliari è fondamentale per poter costruire nel presente e proiettare nel futuro quelle che sono le capacità espressive migliorative di ogni unità immobiliare.